I nostri governanti si sono venduti all'Occidente distruggendo la nostra cultura, la nostra economia e l'onore. La nostra terra tinta del nostro sangue e il mio sulle loro mani. Sono degli invasori. Tutti i contingenti USA e britannici devono lasciare subito la Russia. O ne pagheranno le conseguenze. È semplice. O riprendiamo la base missilistica o da domani vivremo in un mondo nuovo. Via libera per Halo. Sbarra Charlie via. Secondo lancio in arrivo. Squadra Bravo, pronti? Via! Tutti qui da me. Dov'è Griggs? Non ne ho idea, signore. Bravo 6, sergente Griggs ha appena attivato il trasponder di emergenza. 500 metri a sud ovest. Passo. Arriviamo. Bravo 6, chiude. Andiamo. Veicolo nemico davanti a noi. Versaglio abbattuto. Avanzare. Nemico in vista. Uno in meno. Fuori. Nemico eliminato. Nemico eliminato. Buonanotte. Area sicura. E' probabile che tengano Griggs in uno di quegli edifici. La porta del seminterrato garantisce l'accesso da lì e mostreremo stanza per stanza. Silenzio e muoviamoci. Uno in meno. Stanza sicura. Piano sicuro. Passiamo al secondo. Griggs non è qui. Ha ricevuto. Raggrupparsi qui da me, di sotto. Ricevuto. Passiamo al complesso successivo. Non fate rumore. Su. Vai a dare un'occhiata. Grazie a tutti. Sta facendo bene. Piano sicuro. Saliamo di sopra. Grazie a tutti. Su, libera Griggs. Stalto. Più stretto. Iniziamo a credere che mi avresti lasciato qui, ragazzi. In effetti volevamo lasciarti qui all'inizio, ma ci serve il tuo C4. Tutto bene? Sì, pronto ad andare. Ok, squadra 1. Griggs è con noi e stiamo uscendo dall'edificio 2. Andiamo a battere la torre per mettere alle squadre di fare breccia nella recensione elettrificata. Elicotteri nemici. Avanzare. Charlie 6, rapporto sulla situazione. Passo. Qui, squadra 2. Siamo alla recensione. In attesa che togliate la corrente. Passo. Ricevuto. So. Piazza le cariche. Vai. Cari e piazzatevi. Allontanatevi. Charlie 6, torre a battuta. 20 secondi al ripristino della corrente. Ricevuto. Stiamo facendo breccia. In attesa. 10 secondi al ripristino della corrente. Attendete. 5 secondi. Ok, siamo dentro. Bravo 6. Vi attendiamo al punto di incontro. Passo. Ricevuto, squadra 2. Arriviamo. Passo e chiudo. Voglio un barco nella recensione. Avanzare. Elicotteri nemici. Presto la situazione si scatterà parecchio. Gas. Prendi con te sopra e tutti gli altri ed esplorate la base. Griggs e io cercheremo una via alternativa. Contatti a nord-ovest. Mi serve poco di copertura. R.P.G. nemici. Sui tetti. Truppi nemici. Sui tetti. Sì. Contatti a nord-ovest. Contatti a nord-ovest. Contatti a nord-ovest. Contatti a nord-ovest. Cuideremo la via! Contatti a nord-ovest. A presto! Attenti! Le vici davanti a noi! Copri, mi devo ricaricare! Contatti a dove stai qui! Versaglio eliminato! Percivalite! Aria sicura! Percivalite! 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 Sì, vabbè sta da qui! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.